Parto da te Quirino ovviamente nell'analizzare questa sconfitta Prima fai un passo indietro, io ho detto di atteggiamento forse non proprio vi aspettavate una Ravenna aggressiva, non poteva essere altrimenti è mancato qualcosa a livello mentale a Forlì invece? Sì, quello sicuramente, ci aspettavamo una Ravenna aggressiva soprattutto dopo le ultime sconfitte a Monte Granaro ed è quello che abbiamo trovato soprattutto nella parte finale magari non tanto all'inizio, che siamo stati forse a lunghi tratti meglio noi però quando c'era bisogno di dare l'ultimo colpo, diciamo il colpo di grazia non ci siamo riusciti, ci siamo fatti recuperare ed è finita come tutti sapete Cosa può cambiare con questa vittoria? Sicuramente vincere un derby è una cosa che fa bene all'ambiente fa bene a noi che prendiamo un po' di fiducia perché è una cosa che penso, che ho detto anche alla squadra altre volte il passo falso che abbiamo fatto è stato a Cagliari secondo me poi è indiscutibile che abbiamo perso due partite che non dovevi perdere così però perdere con Monte Granaro e a Udine ci può stare in questo campionato perché sono due corazzate quindi questo ci deve dare fiducia dobbiamo partire da questa partita qua, dalle cose che abbiamo fatto bene e abbiamo la possibilità appunto, la prossima, di recuperare i due punti persi a Cagliari fuori casa a Imola quindi dobbiamo lavorare sodo e basta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti